Secondo me è giusto lanciare un messaggio di rinascita, di ripresa, perché secondo me si ha la necessità di assistere a dei racconti, a delle nuove storie, ma anche di stare insieme. Il cinema deve ripartire e questo tipo di manifestazioni come i festival del cinema sono veramente sacrosanti. Io li difendo fortemente, sono venuta qui con un bimbo piccolissimo di due mesi perché era giusto, lo volevo fortemente, quindi grazie di avermi ospitata. Signora Lottito, il personaggio di Azzurra avvitabile ci dica la verità, grazie a questa magnifica interpretazione si è conquistata la bellezza di 107.000 follower su Instagram, ho controllato prima. Eppure viene descritta come una persona molto riservata nella vita privata, come questa antinomia, diciamo così. No, ma in realtà 107.000 non sono neanche poi tantissimi, però i fan di Gomorra sono veramente tanti. Gomorra è un prodotto di successo internazionale, è una serie che ha segnato una piccola rivoluzione proprio nel modo di fare le serie in Italia. Io mi sento molto fortunata di aver fatto parte di questo progetto e dovremo ricominciare le riprese di Gomorra, tra l'altro, credo a fine ottobre. Ma questa è un'anteprima che ci regala? No, no, vabbè, è una cosa che più o meno si sa. Speriamo che si possa ricominciare. A proposito di anteprime, sta uscendo Romulus su Sky. Ci descrive, se possibile, il personaggio che interpreta in questa fiction che tutti siamo ansiosi di vedere? Sì, in realtà posso dire molto poco, però sì, sarà una prossima serie Sky, dovrebbe andare in onda prossimamente, insomma, credo forse inizio 2021. È ambientata in epoca preromana, recitiamo tutti in proto latino, quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche sullo studio della lingua. C'è uno studio enorme, sia di ricostruzione storica, quindi di scenografia, di costumi. Sarà, insomma, una serie molto ambiziosa, ma secondo me... Alla Mel Gibson, diciamo. Eh, perché no, sì. Nel senso del recitare in queste lingue antiche, arcaiche. Sì, è una bella sfida, però devo dire che il cast è stato eccezionale, gli attori hanno risposto benissimo a questa sfida. Sì, è una bella sfida.